Questo è un testo di un premio Pulitzer americano che tratta un tema molto, molto intrigante anche per i giovani. Una scrittrice che ha vissuto il periodo grandioso della Beat Generation come movimento rivoluzionario che si è opposto a un sistema puritano, claustrofobico, che era l'America degli anni 50. Quindi non è un problema tra giovane e vecchio o tra giovinezza e maturità, è un problema del tempo. Bisogna darsi il tempo perché le cose arrivino dentro di te e diventino tue. Il segreto di questa grande scrittrice che prende per insegnare scrittura alla giovane allieva è una relazione tenuta segreta con il poeta della Beat Generation, Delmore Schwarz. Questa relazione che lei ebbe 30 anni prima ha illuminato di incredibili lampi di genialità la sua vita e quindi lei tenta in qualche modo di trasferire quello che è l'insegnamento del Beat Generation. Questo spettacolo cosa aggiunge alla sua già vastissima esperienza? Beh, io non avevo mai toccato Kerouac o Ginsberg o Lurid o questo mondo meraviglioso che ha fatto così tanto. Jim Morrison. Jim Morrison era un seguaccio di Delmore Schwarz. Quindi tutto quel mondo che si è poi autodistrutto attraverso la dexedrina e l'alcol. Però, come dice lei, la luce di quel genio mi ha sostenuta nonostante poi l'orrore in cui queste persone vivevano.